Ok, ben ritornati nella parte 2 della Bedwars numero 1 E iniziamo subito con il raccogliere, ormai siamo diventati esperti noi Quello è il nostro letto, quindi andiamo subito a comprarci materiali, blocchi E i cosi di ferra dove sono? Ok Ops Ok, blocchi Allora 2, 4, 6 Andiamo a vedere se c'è un altro Non ho capito a quanto pare Vediamo se bastano un po' Ok, datemi della lana L'occhio Lana Un ferro Perfetto Perfetto All'inizio ci dobbiamo occupare della Della protezione del Nei dubbi me ne prendo altri Dai, li spreco tutti Tanto Dobbiamo sprecare per forza E niente, non si possono mettere Ma no Facciamolo con la Ma perché con il vetro? No Perché con il vetro? E' una pessima idea di vestirlo col vetro Andiamo un po' all'attacco ora Mi potenzio un altro po' Level up Forse ho detto una cosa che non dovevo dire Ma va, fa un bagno va Servono Vabbè, fanno niente Andiamoci così nudi Ah sì Dai, andiamo, andiamo Go, 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 go Ok Se vi è piaciuto lo scorso Questa è la partita di un video Di conseguenza Se non avete visto il primo Andatevelo a vedere Ok Andiamo un po' a migliorarci La Mannaggia La spada E se mi danno un po' di ferro Ok, me ne bastano altri due Non c'è più niente No, non c'è niente Mannaggios Posso andare Oh, qua c'è uno Là nell'isola del centro Ce n'è uno Sì Godus Ce ne sono anche altri Qui così Ci stanno spaccando il letto Mi era sembrato Ok Vai, 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 vai Allora Upgrade Questo qui Sette Uh, ma ce li ho io Sette Tizi di ferro Perfetto Il tre di oro Poi Il tre di oro Uh, oh Ok 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 Io sono Più difensivo Rispetto ai miei compagni Guardano là Guardano là Quello è il mio compagno Perché qui non è Mannaggia Eh, blocchi Veloce Veloce Ok Ok Così almeno Un po' più Rivestito Ok Ah, non lo fanno apposta Ma non ci posso credere Che babba Vado un po' all'isola del centro Come sono scesi da sotto Bastianord Mannaggia Oddio, ma è sopra di me Ok Tanto arrivo prima o poi Poi si butta Prendete gli archi Prendete gli archi Non, 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 non Sei scemo Guardati in aria Mi faccio un pillar Ah, invece, invece Lo sto prendendo da dietro Sto qua Ok, ok 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 Lo vendico io A rosso No Non ci posso credere Dai, ma mi si è bugato lo schermo Non ci posso credere Perché Ma perché 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 Ora viene sicuramente qui Ora viene sicuramente qui Bravo, quello lì ha la spada in diamante Che bulla Ok Upgrade Ok Noi blocchi Perfetto Poi Ferro Mi upgrade Vedo L'armatura No, ho sbagliato Lo sapevo No, di ferro Sta succedendo Forse mi stanno bussando alla porta di casa Un'altra volta Ma perché Simplemente faccio le bedwars Un bel fulminozzo Quattro L'ultimo 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 Pulla L'ultimo 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 No ma E Uppar Ständig Ok Ok, vado a prendere un po' di lingotti d'oro. All'arco? C'è qualcuno? Ok. E niente, mi sa che sono morto, eh. E niente. Ma risparmiatemi, dai, fatemi andare via. Povero, ma mi faccio pentato. Direi che il centro è occupato. Dov'è, 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 dov'è? Io vorrei rimanere qua a difendere il letto. Oh. Stanno killando il letto. Oh no, è una mia... È una mia compagna, mi son cagata addosso. Allora, upgrades. Tre. Tre. No, non è vero. Fa un moch. Andando un attimo qua al centro. Cambio. 19 di ferro. E' andato un po' alla tizia. No, non è vero. Allora. Forse te pego. No, vai. No, vai. Vieni. Vieni. non mi hanno rotto il mio diretto no? posso fargli un attentato in teoria? no dov'è? valuardo ok mancano 7 minuti qualcuno? ma a me sembra il letto purple è stato distrutto ah 10 dai vieni forza il bro si è cagato addosso allora che magari c'è qualcuno ci sta venendo a pullare il letto però io ho gold gold nessuna gold gold ma è stato andato insieme a lui è caduto anche lui no non ci posso credere lo vado ad ammassare senza nulla così nudo faccio un attentato da dietro sii godo no no dove sono i viola? ho letto viola? si sembra che siano qua i viola hai 10? hai 10? 10? intanto non ho più niente da parte forse perchè ho 64 lingotti d'oro corri me ne ho raccorto di avere così tanti lingotti d'oro allora vado a darli ai mis amigos tenghi no? e cos'è? 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 o- perde pigratelo 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 E' morto? Ok Piatro, 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 piatro Perché mi sono morto? Ma ormai agisco così Che schifo Vai, 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 vai Vado così nudo E' più efficace di andarci vestito perché poi perdi tutto Sì Sì, sì, sì Voi risent Amicare Vado io Ok Per favore, ce l'hai loro? Non ce l'hai loro? Minica, stavo cadendo Vado un po' di... Vado ad ammazzare un po' di... Pinguinos Eh dai, 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 dai No, ne ho ammazzato uno però Dai, sono soddisfatto essendo nudo E mi ammazzo pure sto qua Oddio, sono bloccato No, sono bloccato Era una trappola Non è vero Spinguinos Me la vanno a mascarlo Kawasaki Kago Grico E stripper Questi ce la mascano Perché, perché, perché Zà, zà, zà E niente Abbiamo perso pure stavolta Vabbè E da ciò ragazzi Mi fermo così Iscrivete al mio canale A quello di Nick500 E... Attivate la campanellina Lasciate like E ci vediamo al prossimo video Ciao, ciao